Leggere è comunque un'attività impegnativa. Tu i libri che hai nella tua libreria li hai letti all'antica sfogliando nelle pagine 1 a 1 o hai una tua metodologia di lettura? Utilizzi per esempio servizi come Get Abstract? Qual è la tua ricetta per utilizzare in maniera proficua il tempo nella lettura? Ho provato a usare servizi tipo Get Abstract o Blinklist con grande insuccesso nel senso che non riesco a leggere così. Sarebbe bello perché magari su alcuni libri Get Abstract lo puoi usare su libri specifici, non lo puoi usare su Arari o Modeus perché non avrebbe senso, non puoi condensare un libro così in dieci pagine. Ma su, che ne so, Simon Sinek, Start with Why, che tanto è un concetto solo, che ti devi chiedere il perché, il perché importante, fine del libro, è chiaro che invece lo puoi usare, no? Get Abstract o Blinklist. Però io non riesco a usarli purtroppo perché proprio non mi piace, non riesco a assimilarli, sai, ognuno ha il suo formato. Quindi in genere faccio così, per dirti cosa sto leggendo adesso. Guarda, seguimi, te lo faccio vedere. Allora, in questo momento sto leggendo, no, non ce li ho qua, però ho Seeking Wisdom da From Dawkins, scusami, From Darwin to Charlie Munger, che sto leggendo molto carino. E quello lo vado avanti piano piano, lo assimilo tutto perché è una figata pazzesca. Libro, secondo me, obbligatorio che andrebbe letto a qualunque età, in qualunque momento. Parallelamente sto leggendo un libro di negoziazione che si chiama Never Split the Difference, molto bello, anche quello sto andando, diciamo, in modo classico sequenziale. E poi alcuni libri spizzico, te vi faccio un esempio, ce n'ho uno qua, in cucina, Why You're Five Years Old Could Not Have Done That, questo qua, che è molto carino ed è un libro, ad esempio, sull'arte questo. Quindi, ti faccio un esempio, ti fa vedere delle opere d'arte contemporanea, questo qui è un Cattelan, Bidibodibu, Bidibodibu, ok? E su ognuno di questi, o non so, la classica lattina di Warlord o robe così, ti spiega perché tuo figlio di 5 anni non avrebbe potuto fare un quadro del genere o un'opera del genere. E allora è carino, e questo qui chiaramente non è una lettura sequenziale, perché ha tante opere d'arte, magari tu vai su una che non te ne frega niente e salti alla prossima, no? Quindi, secondo me la cosa importante è, in base al libro, leggerlo nel modo giusto. Ci sono libri di utilità, quindi che ne so, libri pratici, che sono guide per l'uso, oversubscribe, non so, libricini così, dove puoi andare veloce, perché tanto sono tre concetti in croce, il resto sono solamente dei rimpinguamenti per creare un libro, libri che si prestano a essere letti non sequenzialmente, uno ad esempio è Tools of Titans, di recente ho letto quello molto bello di Tim Ferriss, e quello non è sequenziale, ha tante micro storie, tu scegli quali storie leggere, vai prima in una, poi in un'altra, poi lo riprendi. E poi invece hai i libri sequenziali, che sono quelli che ti piacciono, e l'altra cosa ancora, poi mi fermo, perché sai, sui libri poi ognuno ha i suoi metodi, l'altra cosa ancora è che magari hai un libro che tu leggi H24 e lo assorbi interamente subito, e altri invece che ti porti dietro magari per un anno, ce l'hai sempre lì, ogni tanto ci torni, te lo guardi, e quindi è bene il suono della lettura.